Rieccoci nella seconda parte di Primus Interpars, appuntamento a mercoledì, gruppo TV7, come di consueto siamo in diretta che sulla pagina Facebook, ci autopubblicizziamo come di consueto. Se ricordate prima della pubblicità non ho detto chi avevo dopo, perché è una sorpresa, ed è veramente una sorpresa, perché per la prima volta ospite nella mia trammissione di Primus Interpars ho un mentalista, uno che riesce a fare della magia, qualcosa di straordinario, un mentalista dei VIP, tra l'altro un personaggio conosciutissimo, che è stato nelle più grandi emittenti nazionali, è conosciuto in Europa, dunque una persona squisita, che poi ci farà dei trucchi che sono, mi ha raccomandato di dire, perché non pensate siamo di lui che ci preparano, no, sono tutti, io non li conosco, non li ho mai visti, credetemi, lo posso giurare sui miei genitori, su chi volete, e dunque guardateci perché sarà davvero una puntata, una parte della puntata, nella prima Cilino Pomicino, nella seconda abbiamo il mentalista, da non perdere, lo presento, lui si chiama Walter Di Francesco, buonasera. Buonasera a tutti voi, buonasera che ci segue da casa. Io di solito, Walter Di Francesco, in questa trammissione a tutti i miei ospiti ovviamente conosciuti o meno, do sempre da lei perché è l'impostazione, non so se questa sera noi ci siamo conosciuti pochi minuti fa, quindi non è che ci conosciamo. Possiamo darci tranquillamente del tuo, anzi assolutamente un piacere. Per lei, ma dopo se sarò cavia, se sarò la tua cavia, quindi avrò bisogno, avrai bisogno anche del tuo, e lo ripeto, lo ripeterò più volte, io non so nulla, credetemi. No, effettivamente no. Poi ripeto tante volte, lo dicerò, forse lo sa perché sei questo trucco. No, no, no. Va bene, Walter, allora come inizia, cosa vuol dire mentalista, cosa vuol dire? Guarda, il mentalismo e... Una volta io sapevo c'erano i maghi, c'erano quelli che facevano i trucchi. Certo, certo, certo. Il mentalista cosa vorrebbe dire? Ma guarda, allora, il mentalista non è altro che... Intanto è una branca della magia, nel senso che ho cominciato, che avevo più o meno intorno ai 13-14 anni, a avvicinarmi al mondo della magia. Poi la magia mi aveva veramente conquistato, quindi volevo saperne sempre di più, ho cominciato come tutti a chiedere, sai, la scatola del mago, i libri di magia, poi diciamo che quando ho cominciato io non è come adesso, che c'è internet che in un attimo ti può magari portare delle informazioni immediate, bisognava girare tra le librerie in diversi paesi, insomma cercare, vedere se c'era qualche testo, prenderlo addirittura per un mese, perché dopo bisognava restituirlo, non si poteva fotocopiare, quindi è stato, diciamo, veramente una passione così grande dentro di me che mi ha, insomma... Quindi inizi a 13 anni. A 13 anni, sì. Inizi perché? Sei per curiosità oppure qualcuno... Guarda, ho visto in televisione... Oppure hai visto qualcuno in televisione che t'ha... Ho visto in televisione un mago che stava facendo levitare una donna davanti a sé e ho detto no, ho detto fantastico, anch'io. E ho cominciato quindi poi da lì ad appassionarmi, a volerne sapere di più, fino ad arrivare poi a scoprire il mentalismo, che è una forma di intrattenimento, ma che comunque all'interno ha veramente tante forme anche di cultura generale, perché sia per fare il prestigiatore, essere un prestigiatore, ma soprattutto anche per essere un mentalista, bisogna anche saperne tanto di tutti i settori, per esempio devi sapere tanto di... Ci devi essere preparato. Assolutamente, di fare un'infarinatura veramente un po' globale, perché poi sono tutte cose che... Tu inizi a 13 anni per gioco, per scherzo, per curiosità, come si dice, e poi cosa succede nella tua vita? Succede che poi alla fine scopri il mentalismo, che questa forma d'arte, come ti dicevo, che dove bisogna saperne molto anche di comunicazione, di programmazione neurolinguistica, di psicologia comportamentale, anche soltanto di linguaggio verbale, non verbale, paraverbale, osservare molto le persone, osservare le persone anche dal punto di vista proprio del tono della voce, della mimica e da lì riuscire a capire anche magari quello che le persone stanno pensando o magari anche riuscire a far pensare a quella persona quella determinata cosa che poi sarà la tua previsione. No, continui, arrivi. E quando inizi a diventare la tua vera professione? A che età? Eh, praticamente già all'età di 26-27 anni ho cominciato a fare i primi spettacoli. Poi andavamo bene. Ti ricordi il primo spettacolo dove l'hai fatto? Guarda, ne ho fatti veramente tanti, quindi ti direi... Il primo no? Ti dico che era in provincia di Milano, sono sicuro. Ah, non era in parrocchia di solito con gli amici? No, no, no. O a scuola da qualche... no? No, no, diciamo che sì. I primi trucchetti, ti ripeto, ero veramente 14-15 anni, quindi a scuola col compagno di banco, la maestra... Ti ricordi i primi trucchetti che me lo puoi fare così adesso? Quello più banale che è? Guarda, non sono preparato per fartelo ora, però era il semplicissimo gioco, penso che ci sia in tutte le scatole di magia da qualsiasi età, insomma, che si trovano anche nei negozi di giocattoli, il classico fazzoletto che scompare all'interno della mano, che tra l'altro è nella sua semplicità, però per chi non lo conosce è veramente di forte impatto. Prendi un fazzoletto, lo inserisci all'interno della mano e il fazzoletto sparisce, ma sparisce veramente. Non ho mai capito, uno si chiede dove va a finire, magari da dentro la mano, non lo so, posso fare il mago io di indovinarlo così. Poi continua il primo spettacolo a Milano e da lì è iniziata la tua... Un'escalation nel senso che poi... E quindi la tua vera professione. Sì, nel senso che poi ho visto che piaceva, mi divertivo tantissimo ed è stata praticamente poi da una passione è diventata anche una professione, quindi... Senti, vedo che sei sposato. Sono sposato, sì. E qualche trucchetto con la moglie l'hai mai fatto o l'hai ingannata? Lei è la vera mentalista di casa, mia moglie Valeria. Non lo sei mai riuscito ormai, ma lei, la moglie, ecco, la moglie, conosce i tuoi trucchi oppure... Diciamo che lei è la prima che rimane stupita, è la prima che rimane stupita perché ormai ne hai viste veramente di cotte e di crude e ancora tuttora gli piace farsi, insomma, affascinare da quest'arte. No, ho fatto questa domanda per chiederti se nei trucchi, nel tuo modo di fare questo lavoro, qualcuno vicino a te li conosce oppure sei solo privato e nel privato solo te riconosce questo lavoro? Allora il trucco è più una cosa... Perché di solito i trucchi non si dicono mai a nessuno, no? No, diciamo che il trucco è più legato al mago, al mago. Il mentalista utilizza delle altre tecniche dove c'è anche tantissimo studio, quindi più che altro sono delle tecniche che devi acquisire, delle competenze che devi acquisire, quindi non c'è un trucco ma c'è una tecnica, mentre nel mago magari, chiaramente, non so, vedi un illusionista, un prestigiatore che taglia in due una donna, è ovvio che la donna, insomma, non è tagliata in due ma si chiama proprio grande illusione proprio per quello, perché quello che vede l'occhio è una donna tagliata in due parti. Certo, certo. Nel mentalismo ci sono delle tecniche che puoi chiamare... Sono diverse. Sì, esatto, esatto, esatto. Ascolta Walter, succede che oggi come hai accennato tu, c'è internet e dunque uno va a scoprire i vari trucchi dei lavori in internet. La domanda che ti faccio, ovviamente nei tuoi spettacoli ci sarà ogni tanto qualche pezzo nuovo che tu dovrai proporre, devi proporre. Certo, certo, sono sempre diciamo alla scoperta di... Sono idee tue? Anche, ovvio, magari possono essere magari delle idee, alcuni sono dei classici, se vogliamo tornare al mondo della magia, dei classici della magia, che poi magari il performer cerca in qualche modo di fare suo, quindi di personalizzarlo, di renderlo unico all'interno del suo repertorio. In alcuni casi invece, parlando di mentalismo, lì sono sfide giornaliere dove cerchi sempre di costruire... Di stupire. Di stupire, creare un numero che possa veramente lasciare le persone a bocca aperta, creando sempre cose nuove, mai banali, ma soprattutto, appunto, anche ad emozionare le persone e a farle divertire. Quindi deve essere un'emozione legata anche a un divertimento e creare stupore nella mente di questa emozione, quindi conquistarle. Cioè, questo tuo lavoro ti fa dormire la notte, mi spiego meglio. No, non nel senso di essere tranquillo. Essendo un lavoro di fantasia, essendo un lavoro di creatività, ti può occupare la mente anche nel tempo libero e dire porca miseria devo fare questo. Allora, diciamo che... Non so se sono stato chiaro con la notte. Hai reso perfettamente l'idea. Guarda, sì, è vero, perché è una passione talmente grande in me questa che nei momenti liberi, nei momenti in cui, diciamo, sei spensierato, non hai pensieri... Magari anche vai a fare una vacanza, sei al mare, mentre magari mia moglie prende il sole, io magari sono lì che penso, studio a cosa posso creare di nuovo, magari cerco qualche idea nuova, oppure magari numeri che già eseguo, come migliorarli, come renderli sempre più spettacolari, perché proprio è talmente forte questa passione che da una parte mi nutre, ma dall'altra parte mi divora perché cerco sempre di saperne di più, di crescere. Per questo ti ho chiesto se dormi. È una passione molto forte. Per questo chiedevo se tu dormi proprio da questo punto di vista, non nel dormire perché in marzo... Però è un grande piacere. Si condaglia molto a fare di mentalista. È un grande piacere, nel senso che... È come quando uno ha una passione, non so, per esempio tu potresti avere la passione della pesca. Quando puoi prendi la canna e vai a pescare. Certo. Nel mio caso, quando posso, mi chiudo in studio, magari con il mio assistente, e vado a rivedere, cercare, studiare, creare. Diciamo che sono molto creativo durante la notte. Domanda cattiva. Si guadagna molto a fare di mentalista. Lo voglio sapere se ci mancherebbe. Diciamo che sono molto richiesto. Essendo un artista, ovviamente... Sono molto richiesto. Quindi eventi anche importanti, insomma. Anche perché poi, quando mi conoscono le persone, si affezionano. E quindi cercano sempre poi di avere una nuova occasione per rivedermi. I miei clienti, che poi sono diventati anche amici, spesso e volentieri, è lo stesso cliente che mi richiama più volte nell'anno per eventi personali oppure per eventi aziendali. Se tu mi stupisci ti richiamo sempre più volentieri. Vedi, potrebbe essere... Questa è una cosa proprio che vedo che si instaura col cliente. Una cosa che tra l'altro è innata, nel senso che non è una cosa voluta, costruita. Però vedo proprio che si crea un'alchimia. Ecco, in Italia senti in tanti che fate questa professione. Beh, ci sono diversi performer in Italia che sono mentalisti. Poi viene un po' dal... Non mi va di dire dal livello, perché chiaramente non c'è un livello. Però, insomma, sì. Poi facciamo cose diverse. Magari quello che faccio io, spero che non lo facciano gli altri. Insomma, cerco sempre... Anzi, quando magari, per esempio, faccio qualcosa e scopro magari che è una cosa che magari qualcuno prende spunto, così cerco poi di cambiare, di fare altro. Mi piace essere unico nel mio modo di fare. Unico, originale. Che è l'originalità poi quella che premia. Anche gli artisti che cantano. Certo. Delle volte sono quelli che cantano nelle varie feste dei paesi, che hanno una voce migliore di certi cantanti. E uno dice, come vai quella lì che canta così bene? Perché non è originale. L'originalità ovviamente... Oppure ha un timbro particolare. Dicevo prima, Walter, che tu sei stato ai soliti gnoti, a Tussi Cavales, in tanti programmi nazionali. Andiamo a vedere un pezzettino, perché poi lo vedremo all'opera. Un pezzettino di Tussi Cavales. chiedo all'agia a Marco se ce lo fa vedere. E uno si chiede, come cavolo fa fa questa roba qui? Meno male, meno male. No, meno male. Non si può sapere come fai, no? Tecnica. La curiosità ovviamente. Certo, certo. Sono delle cose che uno rimane davvero stupito. Diciamo che un mentalista, tra le cose che fa un mentalista, potrebbe essere quella di... Ma un altro mentalista sa come fai tu? Potrebbe, come potrebbe anche non saperlo. Oppure potrebbe farsi un'idea. O magari... Ci sono dei trucchi di base che tra di voi... No, 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 assolutamente. Magari potrebbe essere che, per esempio, io, anche io, magari guardando un effetto di magia, magari non conoscendo, magari, dico, il modus operandi di quel determinato effetto, magari attivo quei meccanismi per dire, ma se fossi io a fare questa cosa, come la farei? Ecco che magari scopro dei modi nuovi. Diventi un psicologo, insomma, scopro magari anche dei modi nuovi. Diventi un psicologo. Certo. Ovviamente, presumo che gli amici, quando fate qualche cena in famiglia, tra così, qualcuno ti chiede, insomma, dai, fai qualcosa, te lo chiedo. Certo. Te lo chiedo anche io adesso, mi fai qualcosa, così, prima di iniziare. Sì, possiamo fare una cosa particolare. Guarda, facciamo una cosa. Ti chiedo, adesso che ore sono, le? Non possiamo dire. Ah, non possiamo dire. Non possiamo dire. Beh, siamo registrati. No, possiamo dire. Però ti posso chiedere di pensare. Possiamo dire che domani non ci credo. No, no, però possiamo dire questo. Posso chiederti di pensare a un orario qualsiasi. Perfetto. A un orario composto da ore e da minuti. Perfetto. Partiamo dalle ore. Ti chiedo di immaginare un orologio davanti a te con la lancetta delle ore che comincia a camminare. Ok? Cammina, cammina, cammina. A un certo punto nella tua mente quella lancetta si ferma su un'ora precisa. Lasciamo stare i minuti per un secondo. Su un'ora precisa. Già fermato. Perfetto. Assolutamente non cambiare la tua scelta. Non la cambio, no. Ci mancherebbe altro. Ora fai la stessa cosa. Se viene l'assistente che indietro le quinte glielo dico su un orecchio anche. Ok, ok. Va bene, va benissimo. Stessa cosa adesso con la lancetta dei minuti. Già fatto. Ok, però ti chiedo una cosa. Non cambiare idea se vuoi, però seguimi un secondo. La lancetta dei minuti corre più velocemente di quella delle ore rispetto a quella che hai appena visto nella tua immaginazione. Ora, se vuoi per confermare l'ora che hai, i minuti che stai già pensando, se no puoi anche cambiarli. Guarda se... Confermo, confermo. Ah, confermi. Interessante questa cosa. Confermo tutto. Quindi tu adesso in mente hai un'ora... E i minuti. E i minuti. Concentrati un secondo. Come vedere davanti a te, un orologio fermo esattamente sull'ora e i minuti che stai pensando. Concentratissimo. Ok. Se indovini quello che ho pensato... Guarda, io poggio l'orologio qua in modo che non lo posso toccare. Ok. Io posso scriverlo. Aspetta, aspetta. No, no, non serve. Ah, perché magari tu dici qualcuno potrebbe pensare... Allora, c'è lì un giornale. Lo scrivo qui. Ma per la prima volta che ora hai pensato? Aspetta che lo scrivo. Ah, così non puoi. Giusto, giusto, giusto. Se no qualcuno potrebbe pensarlo. E' interessante questa cosa. L'ho scritto così e uno non può dire che siamo d'accordo. Che ora hai pensato? Ho pensato 21 e 15. Allora, dimmi una cosa. Eccolo qui. Si vede 21. L'ho scritto sul giornale e chiedo scusa. Guarda, ma ti dico questo però. Tu hai pensato 21 e 15, giusto? No, io ho pensato 21 prima. Poi mi hai chiesto i minuti. Ho pensato 15. Adesso questa cosa mi fa stare molto più tranquillo. Posso girarlo? Sì, non c'è nessun problema puoi tranquillamente girarlo. Pum, porca. A che ora sono? 21 e 15. Esatto. E' fatto. Ti giuro. Aspetta, questo è per cominciare dopo facciamo qualcosina. Sì, dopo facciamo qualcosina. Qualcosina. E beh, però, uno che è già questo che è una... Eh, rimane un po' scioccato perché, cioè, non è tranne il mio regista che ha capito perché lui è un fenomeno. Ho riuscito a capire. No, ha detto di no. Ha detto di no. Ha detto di no perché ha detto di no perché dopo me lo spiega vediamo se lui l'ha capito. però, e quanti di questi giochi chiamiamoli giochi oppure trucchi oppure... Effetti. Numeri. Quanti, cioè se uno ti dice quanti ne ho talmente tanti nella mia carriera che... Ma ne conoscerò ma veramente oltre un migliaio senza nessun problema. Fai conto che sono veramente quasi trent'anni di studi solo di questo argomento. Ma la cosa grave è che inizialmente avevo pensato le 17 non le 21 poi ho detto no le 21 perché inizialmente avevo pensato poi no le 21 mi è venuto cambio tra me e meno. Cavoli sei riuscito e complimenti questo qua è già una cosa che lascia ovviamente stupito perché uno lo fa così per scherzo o per gioco è una cosa torniamo a noi poi ovviamente andremo a vedere altre cose come dice lui più impegnative non so staremo a vedere cosa ci farà vedere sì e da grande cosa vorrei fare? Guarda io penso che ognuno di noi nella propria vita abbia già un suo disegno che si è costruito e diciamo che ho degli altri progetti che stanno prendendo forma che stanno anche iniziando poi ti dirò il covid purtroppo ha interrotto quella che era già ho chiesto proprio la domanda sono due anni un po' non molto fortunati per tanti artisti ovviamente nel vostro settore anche nella musica in tante altre manifestazioni teatrali insomma in tante altre belle cose purtroppo è stato certo sono stati due anni praticamente bianchi e diciamo che poco prima del covid stavano prendendo forma dei progetti anche molto importanti che poi il covid ha chiaramente demolito ecco adesso piano piano potrebbe essere che le cose tornino diciamo nell'attualità ecco quindi non voglio non voglio raccontarti molto però però diciamo che qualche progetto importante sta prendendo forma sicuramente immagino che ovviamente nel vostro lavoro nel tuo lavoro ovviamente ci sono sempre iniziative creatività e tant'altro per rendere per stupire il pubblico che poi è la cosa che ci tenete nel lavoro tuo immagino guarda vedere l'espressione di stupore di emozione nella persona che ti sta osservando credo che sia la soddisfazione più bella che possa avere un artista oltre che all'applauso che è quello che insomma che ti fa capire una volta io vedi una trasmissione a Walter in televisione ero da Maurizio Costanzo show quindi ti parlo tantissimi anni fa e c'era un ospite anziano non mi ricordo aveva 93-94 anni ovviamente Maurizio Costanzo era invitata e proprio sul ragionamento che stavi facendo gli ha chiesto qual è la cosa che oggi le manca non potendo più fare spettacoli e lui e lei anzi lei disse l'applauso immagino per voi che l'applauso è tutto quello diciamo che ci nutriamo proprio di quello perché è il ripagarti di tutto l'impegno che hai messo nel studiare nel creare delle situazioni degli effetti che poi vanno a colpire a stupire emozionare il pubblico considera che quando i miei compagni di classe andavano in discoteca io ero a casa a studiare con le carte con questo con tutto quello che poi era questo mio mondo che mi stava veramente affascinando tantissimo allora facciamo così andiamo in pubblicità e poi ti vediamo ovvio voglio tanto vedere ma voi dovete assolutamente rimanere con noi tra poco grazie a tutti grazie a tutti